Buon 25 aprile, sono Diana Menti e in questo spazio messo a disposizione dell'Associazione Riviera al Fronte voglio ripercorrere con voi alcuni momenti della resistenza e della liberazione attraverso le cronistorie che i parroci veneti hanno inviato alla fine della guerra ai propri vescovi. Per competenza faccio riferimento alle parrocchie del Miranese, uscendo quindi dai confini della riviera del Brenta, ma credo che ne potrete ricavare un'immagine di quella che fu l'operato del clero veneto nel suo complesso all'indomani dell'8 settembre. Attenzione perché quando si parla di queste cronistorie non stiamo parlando di pagine di diario né del liber cronicus che peraltro pochi sacerdoti tenevano in parrocchia, ma di relazioni scritte appositamente per il vescovo tra il 1945 e il 47. Quindi una lettura critica di queste fonti è necessaria perché non possiamo escludere che si tratti di memorie riviste a posteriori e rimangono comunque fonti importanti perché danno un punto di vista alternativo e talvolta inedito rispetto alle fonti ufficiali. La maggior parte delle cronistorie inizia a raccontare dal 25 luglio del 43 o dall'8 settembre ed è una sorta di prima fase che si distingue invece per il tipo di impegno dei parroci da una seconda fase che invece si apre con l'inverno del 44-45. Alla notizia dell'arresto di Mussolini e della caduta del fascismo il clero mantiene un contenio riservato, guarda lo sviluppo degli eventi con un atteggiamento che viene definito di cauto attendismo, quasi al limite dell'ambiguità come scrive il prefetto di Venezia. I parroci non festeggiano né il 25 luglio né il giorno dell'armistizio. A Santa Maria di Sala era sagra del paese ma Don De Pieri si rifiuta di suonare le campane a festa e chi glielo chiede risponde siamo sconfitti, umiliati, annientati, se volete suonate da morto ma non da festa. Anche a Maerne Don Fedalto si rifiuta di suonare le campane perché molti sacerdoti hanno capito che non si tratta della fine della guerra ma di una capitolazione senza condizioni con tutte le incognite del caso. Il clero quindi non si esprime su quanto sta accadendo ma l'attività ferve perché sono proprio i parroci che ci raccontano come dopo l'8 settembre le campagne del miranese sono attraversate da masse di soldati che fuggono in modo disordinato di fronte all'avanzare dei tedeschi. Il miranese diventa un crocevia strategico per quei soldati che tentano di fare ritorno a casa a piedi ma anche attraverso le stazioni ferroviarie di Marano o di Gaggio o di Mogliano evitando quindi la zona controllatissima di mestre. Si tratta di soldati in fuga che si muovono da soli o in gruppo disarmati e che nelle parole del parroco di Robegano di Salzano Don Semenzato restituiscono un quadro avvilente del nostro esercito in sfacello e della misera condizione della nostra patria. Di fronte a questo spettacolo che definiscono pietoso i parroci allestiscono punti di ristoro a base di minestra e polenta nelle canoniche o davanti alle chiese ma trovano anche alloggio e lavoro a quelli che non riescono a fare ritorno a casa nel meridione ad esempio. A Gardigiano Don Boschino ospita 12 persone in canonica per un anno intero mentre il cappellano ne ospita 10 fino al fine della guerra. La parrocchia di Robegano ospita 400 persone di cui tre famiglie nella casa della dottrina. A Brianna Don Zandonadi accoglie le suore missionarie d'Egitto, alcuni seminaristi di Treviso e addirittura gli sfollati dalmati. Quello che è importante sottolineare è che in questa fase di transizione o se vogliamo di caos le parrocchie sopperiscono all'assenza dello Stato. Nel passato la figura del parroco era sempre stato un punto di riferimento imprescindibile per le comunità ma ora assume un ruolo fondamentale di supplenza e lo sforzo di mostrarsi neutrale li premia in un certo senso perché permette loro di diventare mediatori autorevoli e rispettati fra la popolazione e i vari centri di potere che si stanno insediando sul territorio, quindi tedeschi, repubblichini e partigiani. Questo nuovo ruolo del parroco fu fondamentale in quella che nelle cronistorie è considerata una quasi una seconda fase che abbiamo citato prima, quella dell'inverno 44-45, quando i tedeschi si sono ormai stabilmente insediati sul territorio e le incursioni dei repubblichini si fanno sempre più ricorrenti e violente, sia in termini di rastrellamenti, sia di requisizioni che di esecuzioni capitali. In questa seconda fase l'attività dei parroci si fa più intensa non solo da un punto di vista assistenziale, infatti da subito si muovono per creare un clima di pacifica convivenza con le forze di occupazione e si rivolgono ai tedeschi, spesso con successo, per impedire rastrellamenti o esecuzioni capitali da parte delle brigate nere. Posso citare solo Don Bordignon che a cappelletta nell'agosto del 44, grazie anche all'intercessione dei tedeschi, riesce a salvare 12 persone dall'esecuzione, dalla morte, che erano state estratte a sorte per vendicare la morte di tre repubblichini. Nelle cronistorie i parroci ci raccontano che i tedeschi la facevano sì da padroni, ma con sufficiente buona creanza, come ci dice il parroco di Mirano, ma anche a Martellago, a Brianna, a Noale. I sacerdoti ci raccontano che i tedeschi si erano insediati pacificamente, che non davano problemi, che talvolta aiutavano anche la popolazione come a Noale quando distribuivano la carne. Al contrario invece il parroco di Peseggia, Don Longo, scrive che il popolo italiano non temeva le incursioni aeree notturne di Pippo o gli invasori tedeschi, ma temeva le brigate nere che calavano come uccellacci neri sui paesi in cerca di prede. E quando dovevano ritirarsi con le pive nel sacco, per sfogarsi cominciavano a sventagliare raffiche di mitraglie all'impazzata, lanciavano bombe a mano e gridavano oscure minacce. E scrive ancora che era ben triste che gli italiani, per liberarsi dall'odio di altri italiani che si definivano loro fratelli, che avevano il loro stesso sangue nelle vene, dovessero chiedere aiuto proprio a degli estranei che erano calati nelle nostre terre con la convinzione che noi fossimo i traditori e quindi non erano già ben disposti nei nostri confronti. È una constatazione che scrive Don Longo non ci fa onore ma che dobbiamo dire per amore della verità ed è una constatazione che ricorre in tutte le cronistorie del miranese e che ci stupisce se pensiamo ai crimini di cui si sono macchiati i tedeschi durante la guerra. Basti pensare ai quasi 800 morti di Santa Giustina in Colle, di San Giorgio in Bosco, che sono stati usati come scudi umani dai tedeschi durante la ritirata. È certo che comunque i tedeschi non impedirono sempre che le ex case del fascio si trasformassero in luoghi di tortura come scrive Don Muriago a Mirano e non sempre impedirono le esecuzioni pubbliche di sospetti partigiani nelle piazze dei paesi, alle quali gli stessi paroci erano chiamati a presenziare proprio dalle camicie nere che chiedevano per i condannati a morte il conforto spirituale, la confessione, l'estrema unzione, come posso citare è successo a Donna Caon, parroco di Rio San Martino, il 13 febbraio del 45. Nelle cronistorie quindi i paroci ci raccontano di questa loro attività di pacificazione, volta principalmente a garantire l'incolumità della popolazione e fu un'opera fondamentale anche per la tenuta psicologica di queste comunità. Poco o nulla invece i paroci ci raccontano della collaborazione con i partigiani, in particolare cattolici. Grazie invece agli informatori di polizia e agli stessi partigiani che oggi sappiamo che i sacerdoti avevano un ruolo attivo, nascondevano le armi, nascondevano ricercati, renitenti alla leva, ma in canonica ospitavano anche le riunioni dei quadri di comando, i futuri anche quadri democristiani, incoraggiandoli nella loro attività ma anche consigliando prudenza onde evitare dolorose rappresaglie. Quindi dietro una maschera di presunta neutralità, di indifferenza verso le sorti della patria, le autorità fasciste repubblicane denunciavano quello che chiamavano lo zampino di velluto dei preti, fatto di propaganda spicciola ma insistente in forma sotterranea contro la guerra e contro la repubblica di Salò. E per questo motivo molti di loro furono sottoposti a severi interrogatori, ricordo solo il cappellano di Mirano Don Cometto che fu rilasciato dopo due mesi di carcere solo grazie all'intervento del vescovo di Treviso. E fu in parte anche grazie ai parroci e alle loro relazioni di collaborazione e di dialogo che avevano stabilito con questi due schieramenti che nel miranese la ritirata dei nazifascisti nell'aprile del 45 si svolse senza gravi incidenti. Tra il 29 e il 30 aprile del 45 iniziarono ad arrivare le forze alleate e questa volta i parroci non si rifiutarono di suonare le campane a festa. Anche se per esempio c'è Don Fedalto a Maerne che vuole precisare al suo vescovo come lui non si fece vedere in piazza e non andò a stringere le mani a quelli che si erano autodefiniti liberatori. Voglio concludere questa rievocazione con le parole del parroco di Peseggia Don Longo. Grazie alla meravigliosa insurrezione dell'Alta Italia che aveva facilitato e favorito in modo preeminente l'avanzata degli alleati, il popolo italiano aveva dato una luminosa prova delle sue capacità. Si era riabilitato dalle sozzure del fascismo e aveva offerto una convincente dimostrazione delle sue possibilità di popolo pronto a battersi fino al sangue con eroismo e per il nobile e sublime ideale della libertà.